Ciao a tutti! Allora, è vero, ci sono tre maestri di respiro tutti i giorni intorno a noi e li potremmo usare per imparare a respirare meglio, perché quando respiriamo come quei tre maestri, stiamo respirando bene. Il primo maestro è un cane, possibilmente nero, di grandi dimensioni, un Terranova, un Labrador, cioè cane da 50-60 kg in su, in un posto caldo, che comincia a respirare, perché i cani non hanno le ghiandole sudorifere e quindi devono abbassare il calore corporeo attraverso la lingua e quindi hanno una respirazione, è il sistema respiratorio più funzionale, più sofisticato che c'è sulla faccia della terra, il cane. Quindi avvicinatevi a un cane quando è lì che il padrone sta prendendo il caffè, il cane è lì che ha caldo e imparate dal cane, quello è il primo maestro di respiro. Se riuscite a respirare, rilassati, come che il cane non fa così se no morirebbe al terzo anno, il cane rilassa l'espirazione. Se imparate a respirare da un cane, state respirando bene. Il secondo maestro di respiro è il fiatone, salire tra i piani di scale o fare una corsettina, hai questo, il fiatone. Quello è un momento dove il corpo, il sistema dice via tutte le tensioni, ho bisogno di aria adesso e quindi ti sta facendo respirare in maniera funzionale. Infatti c'è un esercizio che un giorno, forse vi insegnerò, che serve proprio a cominciare la sessione di respiro con il fiatone. Sul terzo maestro di respiro vorrei che foste pronti. Allora, il terzo maestro di respiro, che in occidente è un po' poco praticato, devo dire, è lungamente descritto nel tantra, che usa posizione, ritmo e respiro per l'unione tra il divino e il terreno durante l'orgasmo, l'orgasmo e il terzo maestro di respiro. Certo che sia la cinematografia che, diciamo, il comune senso del pudore fa sì che l'orgasmo sia un po' trattenuto in occidente, assomiglia a qualcosa del genere, invece di... Ecco, io vi garantisco che se portate, dovete avvertire il vostro partner, se no vi chiama al 118, ma se avvertite il vostro partner che fuori dall'ultimo tornante del vostro gioco, quando intravedete il traguardo, cominciate a respirare intensamente, vi garantisco che sapete respirare bene e ne avrete enormi vantaggi, provare per credere. Beh, durante la giornata io mi auguro che possiate incontrare un cane ogni tanto, il fiatone lo abbiate quanto più spesso possibile e l'orgasmo anche. Lì si usa a proprio vantaggio, no? Cercando di migliorare, raffinare il nostro modo di respirare, che vi faccio un piccolo esempio. Fate un respiro nel grande, grande, grande e lo trattenete in cima. Sentite, questo qui è il 100%. Bene, ora guarda come respiri, questo è un respiro da lucertola. Allora hai un contatore grande così, ma gli dai tanta energia così. È chiaro che la disintossicazione, l'energia, l'ansia, il focus, vengono interferiti, cioè un'interferenza alla mancanza di respiro, che produce difficoltà. Magari nella prossima puntata vi parlo di questi quattro cavalieri dell'Apocalisse. la disintossicazione, l'energia, l'ansia, cioè lo stress, l'antistress, e il focus che deriva dall'eliminazione di tossine e stress. Con l'aumento dell'energia vitale aumenta anche la concentrazione. Ma ve ne parlo la prossima volta. È stato bello stare con voi. Ciao a tutti.